Da anni tante intagini da Milano fino a Palermo dimostrano l'emersione e progressivo a fermarsi nella fascia alta del crimine, quella che si occupa di grandi affari, di associazioni criminali definite sistemi criminali che non hanno le caratteristiche tipiche dell'associazione mafiosa ma neppure hanno le caratteristiche dell'associazione criminale semplice. Si tratta di sistemi di potere paralleli a quelle legali, variamente denominati dalla stampa Cric, Comitato d'Affari, P3, P4, di cui fanno parte elite di colletti bianchi appartenenti alla nomenclatura del potere e aristocrazie mafiose che si occupano della gestione dei grandi affari all'interno di gabine di regia esclusive inaccessibili allo stesso popolo mafioso. Le componenti più evolute e dinamiche dell'universo mafioso, la mafia catanese in Sicilia ma anche la famiglia graviana a Palermo ma soprattutto l'entrancata, hanno preso atto che il sistema paese della prima repubblica è finito e hanno capito che oggi c'è un nuovo modo di arricchirsi, cavalcando nel modo più spregiudicato la logica e la cultura del libero mercato. Ancora una volta le ragioni sono di carattere macroeconomica e vanno ben al di là dell'ambito locale perché a seguito della globalizzazione e della creazione di un unico grande mercato mondiale delle merci. A seguito della crescita del reddito pro capita dei paesi emergenti e paesi dell'est che prima erano esclusi dall'economia del mercato è esploso in tutto il mondo in modo esponenziale. Una domanda mondiale alimentata da milioni e milioni di persone di beni e servizi illegali prodotti e commercializzati alle mani. Ma questo straordinario successo planetario della mafia mercatista non si alimenta soltanto di beni e servizi illegali richiesti da milioni di persone, virgolette, normali. Si alimenta anche di servizi illegali che proviene da un elevatissimo numero di imprenditori e operatori economici in Italia e all'estero i quali chiedono alle mafie servizi e prestazioni che servono per abbattere i costi di produzione, per elevare i margini di profitto, per acquisire margini di competitività in un mercato in cui c'è una selezione darwiniana della specie che espelle inesorabilmente i più deboli. La terza evoluzione della mafia rispetto alla prima repubblica è quello del rapporto con la corruzione. Sappiamo tutti, uno dei motivi per cui la violenza mafiosa va diminuendo sempre più e non solo perché prevale la mafia mercatista ma anche perché non c'è più bisogno di sparare a nessuno perché corrompe tutti quanti. La corruzione è diventata il terreno privilegiato per la celebrazione di mille matrimoni di interessi tra colletti bianchi e mafiosi dove si fanno affare su affari. Tanto che ormai si parla di mafio-corruzione, non si riesce più a distinguere tra cose mafia e cose corruzione. Ma c'è una novità rispetto alla prima repubblica che è molto interessante. Vedete nella prima repubblica la corruzione, il rapporto tra corruzione e mafia era tra virgolette democratico. Cosa vuol dire? La spesa pubblica era una risorsa potenzialmente limitata, era spalmata orizzontalmente e verticalmente su tutto il circuito politico istituzionale. Qualsiasi sindaco di piccolo paese, presidente della provincia, qualsiasi presidente di ente territoriale era stazione appaltante, aveva soldi da spendere e qualsiasi mafioso di piccolo, medio, alto ranco poteva interfacciarsi con l'amministratore pubblico che gestiva i cordoni della borsa. Quindi una corruzione democratica. Oggi le cose sono cambiate perché, come dicevo, abbiamo una riduzione progressiva e struttura della spesa pubblica, gli enti locali sono ridotti in condizioni tali che devono tagliare le spese sociali essenziali, abbiamo una verticalizzazione dei processi decisionali della spesa. Pensiamo al caso Concept, dove abbiamo una sola stazione appaltante che gestisce appalti di miliardi di euro. Abbiamo una cresciuta complessità degli iter di spesa, pensiamo a quanto sono complicate le procedure di erogazione dei fondi europei. Tutto questo ha ridotto da una parte la torta da dividere e ha creato un collo di bottiglia. Per cui mentre prima la torta era per tutti, oggi la torta è riservata soltanto a delle ristrette elite. Abbiamo quindi un fenomeno di elitizzazione della corruzione, cioè di riserva dei grandi affari con i quali oggi si fanno i soldi, il settore dell'energia, il settore delle grandi infrastrutture, le privatizzazioni, per esempio uno dei grandi affari nel Dorado del futuro è la privatizzazione dell'acqua, su cui si giocheranno grandissimi affari. Questi grandi affari sono gestiti all'interno di gabine di regia a cui hanno accesso non il popolino, il ceto medio mafioso, ma ristrette elite dei colletti bianchi e ristrette aristocrazie mafiose. Nel mondo mafioso si registra una differenziazione organizzativa evolutiva che è molto interessante e che riserva l'accesso a queste club esclusive, a queste ristrette gabine di regie, soltanto ad alcune elite mafiose a un selezionato numero di capi che hanno una doppia militanza. Per un verso questi capi continuano a rivestire ruoli direttivi nelle strutture formali apicali delle organizzazioni mafiose, la commissione, la provincia, quello che sia. Per altro verso, contemporaneamente e segretamente, segretamente anche rispetto agli altri componenti dell'organizzazione mafiose, entrano a far parte di comitati affaristici di livello superiore e hanno molto spesso una caratteristica, sono dei massoni. Si tratta di quelli che vengono chiamati sistemi criminali, questi comitati di affari di cui fanno parte elite dei colletti bianchi, elite mafiosi, si tratta di network di potere che sono, come dicevo prima, variamente denominati dalla stampa, comitati di affari, cricche, P3, P4, di cui fanno parte soggetti che appartengono a mondi diversi, il politico, il pubblico amministratore, l'imprenditore, il finanziere, il lobbista, il colletto bianco delle mafie, i quali in posizioni di pari ordinazione mettono in sinergia le diverse risorse di cui dispongono potere di influenza politica, rete irrazionale, posizioni strategiche nel circuito istituzionale, essi o capitali, essi o corre violenza, nel comune scopo di colonizzare progressivamente e occultamente interi comparti economici e condurre in affari, in porto affari complessi che richiedono competenze multilivello. Si tratta quindi di una nuova soggettività criminale che nasce dalla fusione di elite di colletti bianchi, elite mafiosi superiori. Ed è estremamente interessante il fatto che questo fenomeno ormai ha avuto un accertamento in sede giudiziaria con ordinanze di custodia cotelare e con sentenza definitiva. Io vi voglio leggere una intercettazione ambientale di un processo in Calabria in cui uno di questi super capi, di questi che entrano a far parte di queste strutture superiori, la santa si chiama in Calabria, parla con un altro super capo e dice che l'entrancata, così come la conosce l'opinione pubblica, è finita, perché in realtà ormai il potere viene gestito da elite superiori. Queste sono le parole di questo super capo della mafia ma sono componente delle strutture superiori di cui vi parlavo. Apertura, virgolette, intercettazione, dice questo capo, l'entrancata non esiste più. Una volta all'impade Nicotera Rosarno c'era l'entrancata, adesso l'entrancata fa parte della massoneria, diciamo è sotto la massoneria, ha però le stesse regole. L'entrancata non c'è più, è rimasta la massoneria e che quattro storti che ancora credono all'entrancata. La vera entrancata non è quella che spesso si sente parlare o come l'entrano i mass media e i carabinieri. Bisogna modernizzarsi, non stare con le vecchie regole. Il mondo cambia e bisogna cambiare tutte le cose. Oggi la chiamano massoneria, domani la chiameranno P4, P6, P9. Questa è una voce dall'interno di questo nuovo mondo mafioso e non dobbiamo dimenticare che anche Salvatore Irina, prima delle stragi, aveva in mente una supercosa di cui dovevano entrare a far parte un selezionatissimo numero di capi che doveva entrare a far parte di questa elite. Questo fenomeno è estremamente interessante perché replica nel mondo criminale la stessa dinamica sociale che si verifica nella società civile. Perché come sappiamo viviamo in un mondo in cui il ceto medio sta scomparendo, tutta la ricchezza si concentra nell'elite e poi c'è una massa popolare che non conta niente. La stessa cosa sta succedendo nel mondo criminale. I grandi affari sono riservati all'elite, il ceto medio mafioso è in grande difficoltà e il popolino si fa le attività criminali a più alto rischio entrando e uscendo dalla calera. Questi nuovi sistemi criminali non sono gestibili con le vecchie categorie e le vecchie norme della prima repubblica. Perché? Non puoi contestare il 416 bis? Perché non usano il metodo mafioso violento. Non puoi contestare il 416 l'associazione a delinquere semplice perché l'associazione a delinquere semplice serve per commettere due, tre, quattro reati. Questi invece hanno uno scopo di colonizzare progressivamente interi comparti dell'economia creando le strutture di potere. E quindi spesso i magistrati contestano contemporaneamente il 416 bis, il 416, l'associazione segreta della legge Anselmi, in realtà il fatto è che ci troviamo dinanzi a un mutante, a una nuova forma criminale che nasce da un nuovo modo di essere il potere. Io qui concludo, mi torna in mente un dialogo off-recourse che ho avuto con uno importante capo mafia in carcere canadese alla fine di un interrogatorio. Mi diceva questo capo mafia, vedi dottore il mondo è cambiato. Prima vivevamo tutti in un tempo in cui la politica controllava l'economia, oggi è l'economia che governa la politica, sono i mercati che dettono l'agenda politica dei governi e noi siamo il cuore nero dell'economia, ma sempre economia siamo. E quindi se tutto quello che ho detto ha una sua valenza, questo ci fa comprendere come oggi il contrasto alla mafia e ai poteri criminali non può assolutamente limitarsi, come era la prima Repubblica, alla risposta penale. La battaglia è globale, è multilivello e si combatte su tutti i fronti e uno dei fronti cruciali consiste nella salvaguardia e nel ripristino della democrazia politica contro il nostro potere dei grandi poteri economici e dei poteri finanziari, di cui le mafie mercatiste sono diventate una componente importante e strutturale. La battaglia consiste nel creare istituzioni nazionali e sovranazionali che consentono ai popoli di riappropriarsi del potere di decidere sul proprio destino, di ristabilire il controllo della politica sull'economia e questo significa per esempio a livello europeo che non è possibile che le decisioni sul destino dei popoli vengano prese da organi che non sono rappresentativi come la Banca Centrale Europea, da Commissione Europea che non hanno nessuna rappresentatività, con un Parlamento europeo che non conta nulla. Occorre creare lo Stato di diritto anche in Europa, creare un Parlamento europeo che sia espressione della volontà dei popoli, che abbia un controllo sui direttivi sui governi europei, che renda trasparente le decisioni che riguardano le vite dei popoli. Occorre creare una democrazia politica in Italia e in Europa che dia vita a una società costruita sulla pietra angolare del valore e della dignità degli esseri umani. Una società dunque completamente alternativa a quella incentrata soltanto sul valore del dio denaro che riduce gli esseri umani a merce di scampio e che sognano i grandi capi della mafia, i capi dei sistemi criminali e dei potentati economici che aspirano a governare le nostre vite. La legalità prima era quella che ti garantiva i diritti, che ti dava un lavoro, che ti garantiva dignità sociale. Oggi la legalità sta cambiando di segno, è quello che i diritti te li toglie, quelli che li condiziona il bilancio e quello che ti dice dobbiamo tagliare la sanità, l'istruzione perché i mercati, il capitale chiede. Oggi la mafia è diventata, come diceva Dragoni, uno dei grandi poteri economici del mondo, cioè in un mondo in cui tutto è merce, in cui quello che conta è la libertà dello scambio, a non quello che scambi, purché lo scambio si è libero male, in cui chi comanda è chi ha più capitali. In un mondo in cui il capitale sta uccidendo lentamente la democrazia, in cui le popolazioni locali hanno sempre meno possibilità di incidere sulla vita del Parlamento, è chiaro che il discorso antimafia comincia a perdere terreno. Ed ecco perché uno dei fronti di contrasto alla mafia diventa la battaglia per la democrazia. Per restituire alla gente quel potere sulle grandi decisioni economiche della vita nazionale che oggi non ha. Perché oggi le grandi decisioni sulla politica economica non vengono prese dal Parlamento, non vengono prese dal Governo, vengono prese dalla Commissione Europea, dalla Banca Centrale Europea, dove ci sono persone che sono espressione delle grandi oligarchie finanziarie attraverso percorsi decisionali che non sono trasparenti, vogliono le privatizzazioni, vogliono lo smontallamento della democrazia. Ed è chiaro che in un panorama sociale di questo genere il contrasto alla mafia diventa parte di un contrasto molto più grande.